amici di atti sport 24 bentornati in nuova puntata di due metri la palla noto vista da vicino se ci occupiamo di serie 1 femminile torneo che è pronto a tornare ai nastri di partenza per proseguire il girone di ritorno della regular season andiamo oggi in casa della palla noto trieste per farlo un piacere avere in nostra compagnia l'attaccante della formazione giuliana guia zizza ciao guia bentornata ciao che andrea grazie a te per l'invito guia iniziamo proprio dal momento particolare che avete vissuto che due mesi di sosta due mesi senza partite ufficiali so che vi siete allenate duramente so che avete fatto anche dei common training eh ne parliamo poi nel dettaglio tra un po ti chiedo in generale che lavoro ha svolto la squadra durante questa lunga pausa sì diciamo che sono stati due mesi lunghi perché comunque passare da giocare una partita la settimana se non due mercoledì sabato a stare ferme per così tanto tempo non è stato semplice soprattutto all'inizio magari il primo mese sono state intense settimane di carico forte sedute di allenamenti in acqua in palestra molto intensi e poi man mano avvicinandoci ora alla ripresa del campionato abbiamo fatto amichevoli partite e ora ci stiamo dedicando un po di più alla tattica in vista appunto della ripresa del campionato ci stiamo dimesse a riprovare i nostri schemi a ritrovare a cercare di ritrovare quella insomma partita che ci serve appunto per cominciare al meglio assolutamente anche perché poi lo vediamo tra un po si comincia subito con sfide da fuochi d'artificio ti chiedo però che tipo di beneficio vi ha portato l'esperienza del common training che avete affrontato in Ungheria eh sì quello è stato importante anche perché diciamo che abbiamo avuto questa esperienza di andare in Ungheria per disputare allenamenti comunque anche confrontarci con altre squadre non giocare sempre tra di noi perché alla fine il primo mese abbiamo fatto allenamenti ma giocando soltanto tra di noi quindi è stato importante comunque ritrovare quel ritmo che ci serviva confrontarci con altri e giocare appunto quindi quello è stato importante poi giocare tra di noi anche ci è servito ma fondamentalmente piano piano giocando bisogna cercare di trovare il ritmo che ci serve e noto che in questa intervista mi servi sempre l'assist e quindi non posso far altro che sfruttarlo hai parlato di ritmo partita è vero amichevoli common training servono a mantenere la forma l'allenamento i principi di gioco però è tutto diverso dalla partita ufficiale dall'atmosfera del pre partita dalla tensione quanto sarà difficile entrare in vasca e iniziare subito con il giusto piglio e sarà difficile soprattutto dopo questi mesi di tanta pausa perché comunque da settembre eravamo riusciti a trovare piano piano partita dopo partita soprattutto con l'armonia tra di noi il ritmo che ci serviva adesso entrare così non sarà facile ma sarà importante cercare di farlo da subito e entrare concentrate cercare di fare quello che sappiamo fare e provare le nostre cose e esprimerci al meglio perché non possiamo permetterci errori e abbiamo disputato finora un campionato buono diciamo ma dobbiamo cercare di annulare tutto quello che è stato fatto e continuare su quest'onda positiva assolutamente io ti chiedo quale step di crescita serve a questa squadra per giocarsi al massimo delle sue possibilità la parte decisiva dell'annata è anche perché oltre al campionato ricordiamoci che siete in final four di euro cup sì anche lì in final four comunque è un'esperienza che ci sta diventa molto che ci serve molto per crescere soprattutto come gruppo perché comunque fondamentalmente siamo un gruppo giovane quindi giocare tra di noi ci può aiutare sempre di più a creare gruppo soprattutto in acqua conoscersi meglio e disputare poi partite importanti perché comunque conoscendoci sempre di più riusciamo a mettere in acqua le giuste caratteristiche che ognuna di noi può mettere in atto assolutamente vado un attimo sul personale se ti fermi e riavvolgi un attimo il nastro dell'esperienza che hai vissuto fin qui a trieste massima serie quanto è cresciuta guia zizza rispetto alla ragazzina che giocava in due femminile con la calostina dell'acqua chiara ma tanto nel senso che comunque è per me è stato un cambiamento radicale passare dalla due a una serie a giocare in coppa quindi sotto questo punto di vista sono cresciuta molto soprattutto grazie anche alle mie compagnie che mi hanno aiutato da subito a integrarmi nel gruppo e a crescere soprattutto individualmente poi è ovvio che confrontarsi nella massima serie anche in coppa quindi con squadre al di fuori del campionato italiano mi è servito molto a crescere ed è bello c'è un'esperienza importante per me e dicevo all'inizio si riparte si riparte con i fuochi d'artificio perché l'equipe in testa anche se correggimi se sbaglio nel girone d'andata siete andate a annesima e avete battuto le campioneste in carica però c'è una lotta veramente bellissima per la seconda posizione trieste in piena corsa e ci saranno una serie di scontri diretti che decideranno poi chi andrà a giocarsi le semifinali scudetto si parte dal derby del triveneto con l'antenore plebiscito padova che partita ci dobbiamo aspettare sì diciamo che questi dopo questi due mesi stop partiamo proprio con il botto con padova quindi sappiamo che alla fine siamo due squadre che si equivalgono molto quindi sarà una partita molto intensa da subito dovremo cercare di entrare concentrate dall'inizio cercare di fare le cose che sappiamo fare e metterle in difficoltà da subito imponendo il nostro gioco e chiudiamo la nostra chiacchierata con un'ultima battuta se proviamo a scendere un po più nel dettaglio dal punto di vista tattico secondo te quali potrebbero essere le chiavi di questa sfida tra due formazioni che lo ribadisco sono in corsa per il ruolo di primo antagonista dell'equipo orizzonte ma come ti ho detto prima con il fatto che secondo me siamo due squadre molto simili sarà una partita che si deciderà molto sui singoli episodi chi riuscirà a fare meno errori chi riuscirà a essere più cinica in attacco nel momento importante riuscirà a portare a casa tre punti va bene siamo così al termine di questa chiacchierata io ringrazio Guia Zizza per essere intervenuta e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata ciao Guia grazie mille Andrea grazie a te